Con la bici provengo da Valdivarri, Comune di Santa Maria. Dopo Valdivarri sono giunto ai piedi di Castelvecchio e adesso continuo la strada dall'incrocio sotto a Castelvecchio a Santa Maria. Ci sono 7 km, poi da Santa Maria a Tagliagozzo dovrebbe essere altri 19-19 km. In poche parole, da questo punto a questo qua, mancheranno 5-40 km a Luco dei Marci. Oggi ho fatto un bel percorso, sì. Sono partiti da Luco dei Marci, da Luco dei Marci Avezzano, Avezzano, Magliano dei Marci, Magliano dei Marci Torano, Torano, Grotti, Viderose, Borgo Rose, Castelmenardo, Pesco, Lottiano, Pesco, Rocchiano, Santa De Personesce, ho deviato dal Bibio, dal Bibio a Valdivarri. Adesso mi trovo qui.